Parliamo di questa nuova recensione di riassunto di Post Mortem, serie originale Netflix, se non erro, norvegese. E parliamo di questo primo episodio, anche se mi ricordate un po' un'altra serie in cui i morti ritornavano in vita. Non vi sto facendo spoiler, ma c'è scritto nella trama, quindi non linciatemi. Quindi, siccome non sapevo cosa vedere, ho finito la serie loro, che sui rendersi state vedendo, che sto caricando qualche video al giorno, ho detto, cosa mi inizio? Uno di voi mi aveva consigliato una serie tv, mi ha detto, è bellissima, non mi ricordo più qual è che mi avevi consigliato, perdonami. E non mi ricordo neanche dove è finito il commento in cui tu mi avevi citato questa serie tv. Se ti va, riscrivono qua sotto, che così quando mi finisco Post Mortem, che sono sei puntate, ho visto la prima puntata, potrò andarla a vedere. Ti ringrazio. Partiamo con questa prima puntata. Che dire, io vi farò un po' un riassuntino. Poi alla fine andiamo allo spoiler, quindi state tranquilli, diciamo, così così. Poi io vi consiglio di andare a vedere, perché è carina come serie. Cioè, mi è piaciuto il primo episodio, già da premettere questo. Questa città, come sembra, classica cittadina dove non succede una minchia, vengono chiamati queste delle bombe funebri, che ritrovano questa ragazza in questo campo. Questi due poliziotti vedono che è morta, chiamano, e queste delle bombe funebri sono proprio i familiari di questa qua che hanno trovato morta. Quindi, quello là, super contento, è finalmente morto qualcuno! Cioè, io, ragazzi, ho sempre immaginato questi qua delle pompe funebri che sono contenti quando muore qualcuno, perché sanno che incassano i soldi, dall'altra parte c'è quelli che stanno male. È un po' una cosa magra, ma è anche brutto. Cioè, che alla fine, se non muore nessuno, loro non ci guadagnano un cazzo e non campano. Campano sui morti, praticamente. Un lavoro, praticamente, secondo me, non voglio giudicare, ma non riuscirei mai a farlo, ecco. Ditemi un po' la vostra, a parte questa cosa della serie tv. Niente, la vanno a prendere, loro stanno male, c'è il padre, il fratello, la portano all'obitorio, dove iniziano a farci un'autopsia, ma, mentre la stanno per tagliare, lei si risveglia. Allora, hanno controllato il corpo, non hanno trovato nulla di, diciamo, no, collottazioni, strangolamenti, non si sa come sia morta, ma è resuscitata. Boh. Qui in poi sembrano i parenti contenti, tranne il padre. Il padre, cazzo, quando gli hanno detto che era morta, lui era anche un po' più tranquillo, quasi, quasi. Ora lo vediamo molto cagato sotto, e non capiamo il perché. Va ben presto, veniremo a scoprire alcuni retroscena, ma io qua non ve le voglio dire. La serie mi sta piacendo, c'è l'intrigante, c'è la curiosità che cresce, no? Dice, ma perché il padre fa così? Il fratello è simpatico, i personaggi sono alcuni scritti bene, alcuni no, però, quelli che dovrebbero avere quell'importanza nella serie, ci sta. La ragazza è anche brava, questa qui, questa qua, la morta, non mi ricordo il nome, ragazzi, perdonate, ma io con i nomi faccio schifo, eh. Quindi, abbiate pazienza. Niente, andiamo, ragazzi, agli spoiler. Io saluto a tutti, vi consiglio di andare a vedere su Netflix, e mi fate sapere un po' la vostra. Passiamo agli spoiler. Niente, vediamo il padre che ascolta questa registrazione della moglie che è morta, e che pare essere successa la stessa cosa anche a lei, ovvero di ritornare dalla morte. Questa cosa, il padre lo ascolta, no? Dice, se lei diventerà come me, se vedi quella cosa negli occhi come me, allora ammazzala, non c'è, la parla dai coglioni, non si sa il motivo, c'è, è pericolosa, sarà un vampino, un zombie, che cazzo non è, non ce l'ho venerdì. Bellissimo, ehm, la cosa che prende, si rifala di nuovo, eh, siccome il figlio è contento quando muore qualcuno, prende, eh, il padre rapisce la figlia e cercano di bruciarla viva, cioè di cremarla e liberarsi di lei. Lei riesce a sfuggire, lo uccide, non lo vediamo come lo uccide, riceve la chiamata dalla polizia, il figlio, il figlio risponde con me, è morto qualcuno, poi io no, è morto tuo padre, quello se mi dice, ma che cazzo, mi chiamate, è morta mia sorella, mi chiamate, è morto mio padre, ma porca puttana, che cazzo, non muore nessuno che non è un parente mio, che non ci vada ognun cazzo, come lui pensa. Niente, lo va a dire a lei, lei no, me lo vediamo con le mani sporche, di sangue, non si sa se sarà suo o sarà del suo padre, non si sa come cazzo l'ha ammazzato. E così si conclude il primo episodio, non male, stiamo a vedere in prossimi 5 episodi cosa accadrà, come si svolgerà la trama e se no mi romperò i coglioni prima, fatemi sapere un po' voi qua sotto se l'avete vista o non l'avete vista, e mi raccomando, se avete qualche serie, horror, che avete visto, o che valga davvero la pena, che non sia troppo lungo, consigliatelo qui sotto nei commenti, che è appena possibile, lo vada a recuperare e lo vedo e ci faccio una ricerca di assunto. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, e alla prossima recensione, e anche un ringraziamento anche alla regia, che non saprei come cazzo fare, che mi dà sempre una mano ogni giorno sul canale. Ragazzi, alla prossima!